Benvenuti alla nuova puntata della rubrica La vostra opinione conta. Oggi parleremo del problema degli insegnanti di sostegno e lo faremo con Francesca Romana Valente, romana di 36 anni. Il problema degli insegnanti di sostegno è un problema cronico in Italia. Purtroppo non ci sono sufficienti insegnanti di sostegno per il numero di alunni disabili o diversamente abili che frequentano le nostre classi, sia della scuola elementare, media e superiore. Il rapporto del Ministero dell'Istruzione 2019-2020 mostra che su 150.000 insegnanti di sostegno 50.000, cioè un terzo, sono coperti da posto in deroga, vale a dire non sono personale di ruolo, ma sono supplenti o persone che vengono utilizzate anche senza titolo. Infatti nella tabella successiva possiamo vedere il rapporto tra alunni e insegnanti di sostegno che cresce costantemente, ma è sempre insufficiente rispetto alla richiesta. Quindi a fronte di 260.000 studenti abbiamo soltanto 150.000 insegnanti che come dicevo non sono tutti di ruolo. per cercare di guarire o comunque di affrontare questa situazione sono stati da diversi anni realizzati dei corsi di TFA sostegno. L'ultimo che è stato bandito nel scorso anno era per 19.835 posti e comunque non è stato ancora espletato perché causa del Covid sono state sospese le lezioni e quindi dovrebbero tenersi adesso in quest'anno scolastico. Francesca Romana Valente è tra quelle insegnanti che pur avendo superato l'esame per il TFA sostegno del quinto ciclo non è risultata nel novero dei posti che erano messi a disposizione dell'università. Per cui è rimasta appesa, è idonea ma non può frequentare il corso. E allora Francesca ci racconti un po' la sua esperienza. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per lo spazio che mi avete concesso. Sì, questa situazione in cui mi trovo riguarda in realtà tantissimi insegnanti ancora non si sa esattamente quanti in realtà perché alcune università addirittura stanno ancora facendo le prove selettive. Quindi ancora non si sono concluse, in realtà molte università non hanno ancora pubblicato la graduatoria finale degli ammessi e il problema, esattamente come diceva lei, è che il numero dei posti messi a bando dalle università, siccome questo numero si basa poi fondamentalmente sulle disponibilità degli Atenei, non solo non è sufficiente a coprire il fabbisogno di insegnanti di sostegno, fabbisogno che è in continuo aumento, ma non copre in realtà neanche il numero di chi passa poi il concorso. Perché è un vero e proprio concorso, questo esame di ammissione è strutturato in tre prove, c'è una preselettiva con dei quiz e poi c'è una prova scritta, che adesso in alcune università è stata sostituita da una prova pratica, comunque quando l'ho fatto io che l'ho fatto ad ottobre era una prova scritta, quindi nel caso della mia università erano due piccoli saggi brevi, quindi erano delle prove di argomentazione e poi un esame orale che io ho sostenuto il 14 dicembre, se invece altre università ancora lo stanno facendo. Quindi ho avuto i risultati, ho passato queste tre prove, però molto probabilmente, ancora non lo so per certo perché la graduatoria ancora non è uscita nella mia università, ma molto probabilmente non rientrerò nel numero dei posti messi a bando. E questo purtroppo colloca a me e tutti i miei colleghi i risultati idonei non vincitori in un vero e proprio limbo, perché quello che succede, diciamo la nostra situazione è normata dal decreto 92 del 2019 dell'allora ministro Pussetti che all'articolo 4,4 norma proprio la situazione di coloro che pur avendo superato le prove non sono risultati vincitori dei posti messi a bando. Quindi diciamo quello che si prospetterebbe sarebbe di attendere la pubblicazione del prossimo ciclo di TFA, quindi il prossimo bando, che però non si sa quando ci sarà. E se tutto va bene, se tutto rimane com'è, dovremmo avere la possibilità di scriverci in sovrannumero. Però chiaramente questo comporta attendere probabilmente ancora un altro anno, se tutto va bene. Professoressa Valente, so che lei appartiene a un gruppo Facebook dove ci sono anche altre persone che hanno nelle sue stesse condizioni. Qual è la proposta che voi portate avanti? Allora noi chiediamo che venga attivato un corso straordinario per noi idonei che parta il prima possibile, possibilmente in primavera, in modo da non dover attendere la pubblicazione del sesto ciclo per poterci poi iscrivere come sovrannumerari. Ci vuole raccontare la sua esperienza? Lei insegna nella scuola media, quindi è stata quasi sempre in presenza con gli alunni disabili. Vuole raccontarci che cosa è successo in questo periodo così complicato per la scuola italiana? Sì, diciamo il problema principale chiaramente sono state anche le quarantene, varie classi chiuse per quarantene e vari insegnanti anche. Quindi come insegnante di sostegno mi sono trovata spesso anche a cercare di gestire la classe in assenza dei docenti di posto comune, quindi a gestire anche le dirette tramite i vari canali come Google Meet, eccetera, con il docente a casa in quarantena. Io che in qualche modo gestivo la classe, coordinavo il tutto in presenza. Ringraziamo Francesca Romana Valente per aver partecipato a questa trasmissione e ricordiamo che il suo messaggio è quello di volere attivare al più presto un corso straordinario di TFA, sostegno per coloro che sono stati ritenuti idonei, che sono risultati idonei e quindi per poter al più presto favorire l'ingresso nelle scuole. Io ringrazio ancora una volta Francesca e ricordo a tutti che coloro che volessero partecipare a questa rubrica La vostra opinione conta possono mandare una mail ai lettori ci scrivono chiocciolatecnica della scuola punto it mettendo il proprio numero di cellulare e la ragione per cui vogliono partecipare.